MESSAGGIO DI SPERANZA Uno spazio per trovare ispirazione e crescita spirituale. Mio caro fratello, mia cara sorella, capisco che ci sono momenti in cui lo scoraggiamento e la stanchezza si insediano nel nostro cuore. Le difficoltà sembrano più grandi di quanto possiamo sopportare e siamo tentati di rinunciare ai nostri sogni e obiettivi. Tuttavia, Dio è qui in questo momento per incoraggiarci a perseverare, a non arrenderci di fronte alle sfide che la vita ci presenta. La persistenza è un valore fondamentale che ci porta alla conquista. È come una fiamma ardente che risiede nel nostro cuore, spingendoci a andare avanti anche quando tutto sembra insormontabile. Dio ci ha dotato di questa determinazione interiore ed è al nostro fianco in tutte le situazioni, pronto a rafforzarci. Credi, mio caro amico, mia cara amica, che quando perseveri, dimostri la tua fiducia in Dio e nel meraviglioso piano che ha per la tua vita. Questo percorso potrebbe non essere facile, ma Dio ha promesso di essere con noi in tutte le circostanze, rendendo possibile l'impossibile. È il Dio che apre porte dove non c'è via e fa sì che tutte le cose cooperino per il nostro bene. Persistere non significa solo continuare a procedere, ma anche adattarsi e imparare dalle esperienze. La vita è come un fiume sinuoso, pieno di curve e cambiamenti, ed è la nostra flessibilità e saggezza che ci permettono di affrontare i cambiamenti con coraggio. Quando perseveriamo, siamo un esempio vivente di fede e superamento per coloro che ci circondano. La nostra persistenza ispira gli altri a non rinunciare ai propri sogni, a credere che possono vincere, indipendentemente dalle avversità che affrontano. In questo cammino, non siamo soli. Dio cammina con noi ad ogni passo, sostenendoci e rafforzandoci. Quando dubbi e scoraggiamento ci assalgono, guarda indietro e ricorda le vittorie già raggiunte. Abbi fiducia che il meglio deve ancora venire, perché Dio ha un meraviglioso piano per la tua vita. Rendi questo messaggio una preghiera. Caro Dio, riversa su di noi una dose extra di perseveranza. Che il tuo amore e la tua forza ci avvolgano in ogni momento, rafforzandoci per affrontare ogni sfida con fede incrollabile. Donaci la capacità di perseverare e di raggiungere grandi conquiste nelle nostre vite. Ricorda che il canale Momento in Cristo è qui per essere una fonte continua di ispirazione nel tuo cammino. Credi in te stesso a, confida nei piani di Dio e non rinunciare mai ai sogni che Lui ha messo nel tuo cuore. Che questo messaggio di speranza e perseveranza trovi dimora in te e che tu sia uno strumento di luce per coloro che sono nell'oscurità. Condividi questo messaggio con coloro che ami e aiuta a diffondere fede e incoraggiamento. Grazie per essere con noi e per fare parte di questo cammino di crescita spirituale. Ricorda sempre, Dio è al tuo fianco, sostenendoti ad ogni passo del cammino. La perseveranza ti porterà a raggiungere il meraviglioso scopo che Dio ha per la tua vita. Credi, persevera e vinne. Ci rivediamo al prossimo incontro. Che la pace e la grazia di Dio siano con te. Amen.